Quando ci sono dei denti affollati la maggior parte dei professionisti ha una sola soluzione cioè quella appunto di andarli ad addrizzare e quindi sembra appunto un qualcosa di molto basilare di molto semplice quindi il problema è semplice perché appunto i denti sono storti li allineiamo li addrizziamo è un qualcosa di semplice ma in realtà non sempre questo può essere appunto il percorso giusto nel senso che spesso anziché appunto andare con dei flowchart diagnostico terapeutici in maniera lineare bisogna magari capire perché quei denti sono affollati e rimuovere eliminare correggere la causa che ha provocato il disallineamento dentale per poi successivamente andare con i brackets come in questo caso con le stelline ad allineare i denti stessi. L'affollamento dentale e le malocclusioni dentali come oramai viene detto da tanti esperti di ortodonzia come William Profitt che ha fatto anche il libro con Ruccini e così via è praticamente una problematica la malocclusione dentale del mismatch evolutivo quindi lo stile di vita moderna, lo sviluppo socioculturale eccetera eccetera ha comportato una maggiore incidenza sia di malocclusioni dentali che anche di affollamenti dentali se andate a vedere appunto in questo grafico in base al tempo guardate quanto sono aumentate negli ultimi anni le malocclusioni cioè c'è stato veramente un aumento pazzesco proprio perché c'è un grandissimo mismatch evolutivo a questo punto molti potrebbero dire ma come si fa a sapere se nel passato ci fossero malocclusioni o meno in realtà questo si sa il risaputo perché perché ci sono ovviamente le evidenze fossili e i crani del passato diciamo dall'epoca della pietra fino anche al medioevo e così via che ci mettono in evidenza quale fosse la situazione dentale dei nostri antenati in alcuni casi nel passato era molto più difficile osservare diciamo i crani del passato valutare le malocclusioni perché spesso durante i processi di taffonomia e quindi di decomposizione del corpo la mandibola cioè l'osso inferiore si separava dalla restante parte del cranio e quindi non avendo le due arcate quella superiore e quella inferiore come mezzo di confronto era più difficile è stato più difficile stabilire l'incidenza di malocclusioni anche se comunque l'hanno fatto seppur in maniera ridotta proprio per questo problema ma quello che si poteva vedere invece era proprio l'affollamento dentale che era molto meno marcato nel passato ma anche le malocclusioni comunque laddove possibile laddove presenti sia la mascella che la mandibola le hanno valutate e il trend come riportato da questo grafico di un articolo del British Dental Journal mette in evidenza un grandissimo aumento fino al 2010 delle malocclusioni una vera pandemia se vogliamo quasi tutti al giorno d'oggi hanno bisogno di trattamento ortodontico se abbiamo quindi una malocclusione dentale ci fa comodo spesso dire che è frutto della genetica sì parzialmente alcune malocclusioni possono essere frutto della genetica come la terza classe che è ereditaria negli Asburgo ma non sempre la malocclusione, l'affollamento dentale è frutto di genetica ma è frutto dello stile di vita cioè di come l'ambiente agisce sui geni e quindi la malocclusione essendo proprio ridotta nei popoli del passato ovviamente non si vedeva tanto anche perché i popoli del passato non avevano nell'overjet e nell'overbite proprio perché avevano una marcata usura dei denti e dopo la civilizzazione umana c'è stata appunto una esplosione di questa pandemia di malocclusioni 5400 specie all'incirca del pianeta non hanno malocclusione noi siamo l'unica specie sul pianeta terra ad avere appunto malocclusioni dentali attualmente anche se andiamo a osservare gli ultimi popoli, quelle ultime società tribali attualmente viventi sul pianeta sostanzialmente molti indigeni e così via possiamo osservare è stato osservato in questi popoli che la malocclusione e l'affollamento dentale non sono problematiche che li riguardano quindi sono completamente assenti questo significa che c'è stato per forza qualche fattore cioè la civilizzazione umana, la rivoluzione agricola e così via a comportare questo mismatch evolutivo e quindi l'insorgenza delle malocclusioni c'è chi parla appunto che sia stata la rivoluzione agricola c'è chi dice che le malocclusioni e gli affollamenti dentali diciamo abbiamo iniziato ad aumentare con l'avvento del fuoco con l'avvento della forchetta e del coltello perché la stessa forchetta e coltello permettono appunto di incidere il cibo in maniera differente rispetto a come si andrebbe appunto ad incidere il cibo senza questi utensili moderni negli inuit canadesi per esempio anche lì la malocclusione dentale è praticamente ridotta, eccezionale tuttavia gli inuit canadesi hanno iniziato anche loro alcuni gruppi di essi a civilizzarsi perché recentemente il governo canadese li ha resi cittadini e quindi hanno buoni pasto e hanno cambiato ovviamente stile di vita perché hanno iniziato a venire in contatto con il cibo del mondo occidentale e quindi due generazioni questi gruppi hanno sviluppato le malocclusioni della nostra società sono bastate soltanto due generazioni queste sono appunto le cosiddette malattie della civilizzazione le possiamo anche osservare per esempio nei giapponesi dopo la seconda guerra mondiale molti giapponesi con uno scarso tasso di malattie cardiovascolari sono migrati alle Hawaii e hanno sviluppato malattie cardiovascolari questo lo vide anche Weston Price che laddove la società sorge sorge anche la malocclusione dove sorge appunto la civiltà per fortuna i trattamenti ortodontici attuali molti professionisti si concentrano sul volto prima di impostare un trattamento ortodontico per esempio facendo anche l'analisi cefalometrica però secondo me dipende nel senso l'analisi cefalometrica viene appunto utilizzata seguendo degli standard caucasici come valori normali di riferimento questo non è proprio corretto perché il cranio di un caucasico ovviamente è diverso ha delle misure craniometriche differenti rispetto ovviamente al cranio di un australoide o di un negroide e così via e quindi ovviamente le cefalometrie dovrebbero avere dei valori di riferimento in base al gruppo etnico e non solo anche in base all'età e al sesso dell'individuo perché un cranio maschile ha per forza di cose delle caratteristiche diverse rispetto al cranio femminile quindi diciamo i valori normali di riferimento non devono essere universali basati soltanto sul caucasico maschio ma devono essere ponderati in base al sesso in base all'età perché anche con l'invecchiamento si modifica il cranio e in base all'etnia molti però potrebbero dire ma le malocclusioni sono un tratto che fanno parte appunto dell'evoluzione dell'uomo cioè l'uomo si è evoluto ha sviluppato un grande cervello e quindi come compromesso diciamo ha avuto le malocclusioni ok ci può anche stare ma queste malocclusioni non comportano dal punto di vista evolutivo alcun tipo di vantaggio anzi comportano soltanto degli svantaggi delle problematiche di salute ovviamente cosa che invece non accade per esempio se andiamo ad osservare l'anemia falciforme che ovviamente si è sviluppata in alcune aree per proteggere gli individui dalla malaria in alcune aree per esempio dell'Africa e quindi diciamo lo sviluppo dell'anemia falciforme nel corso del tempo è stato diciamo un tratto evoluzionistico che però ha permesso diciamo di proteggere sotto alcuni aspetti questi gruppi di individui dalla malaria stessa che è temibile e fatale per quanto riguarda infatti le malocclusioni invece non conferiscono alcun vantaggio o almeno per il momento la scienza non è riuscita a trovare alcun tipo di vantaggio dal punto di vista evolutivo ma cosa influenza appunto la forma del volto? la forma del volto è influenzata da vari fattori sia genetici ma non c'è un solo gene che determina la forma del volto ma sono tantissimi i geni che la determinano ovviamente sia anche sostanzialmente oltre che ai geni i fattori ambientali, gli stimoli fisiologici corretti sul volto stesso per poter comprendere meglio questo concetto dobbiamo parlare appunto di distrofia muscolare che è una patologia che colpisce sin da piccoli non è ovviamente una malattia delle ossa ma la distrofia muscolare è una malattia dei muscoli ma l'uso dei muscoli ovviamente influenza anche le ossa se i muscoli non lavorano correttamente le ossa saranno mal posizionate o iposviluppate un classico esempio di ciò è proprio rappresentato dal collo dove abbiamo un muscolo molto importante che origina dietro l'orecchio a livello del processo mastoideo questo muscolo appunto è lo sternocleidomastoideo alla nascita diciamo non abbiamo il processo mastoideo da cui origina il muscolo sternocleidomastoideo ma il processo mastoideo che è una protuberanza che potete sentire toccandovi dietro l'orecchio praticamente si inizia a formare questo processo a circa sei mesi quando il bambino inizia a girare e a muovere la testa quindi è la trazione muscolare che sta modellando l'osso se c'è una buona attività muscolare le ossa si sviluppano correttamente se i muscoli masticatori lavorano correttamente le ossa che contengono i denti si sviluppano correttamente c'è una minore incidenza di malocclusioni questo è il concetto che voglio appunto trasmettervi un altro esempio sia negli inuit che masticano cibi estremamente duri e hanno la presenza del torus palatale qui potete vedere un volto correttamente sviluppato anche in questo caso la mandibola è abbastanza squadrata gli zigomi sono abbastanza pronunciati gli occhi non sono appunto stanchi, infossati eccetera il naso è dritto e anche a livello labiale abbiamo uno sviluppo sufficiente e quindi vale un principio molto importante di Bernard che diceva usa quell'organo o perdi quell'organo e quindi ovviamente se non si utilizza l'organo masticatorio insorgono le malocclusioni dentali diciamo che sino alla fine del periodo medievale l'uomo masticava cibi talmente duri che i denti si consumavano addirittura fino alle radici si stima che lo sforzo masticatorio dell'uomo del passato era 20 volte maggiore rispetto al nostro quindi utilizzava l'organo senza perderlo senza avere malocclusioni e doveva masticare questi cibi diciamo duri proprio per poter assumere tutti gli ingredienti fino all'ultimo mentre noi attualmente senza la masticazione vigorosa e potente con dei cibi morbidissimi come le merendine assumiamo un sacco di calorie e tendiamo anche a ingrassare bene ragazzi io con questo video ho finito se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale e lasciare un mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao